Oggi si gioca solo offline Perché se no le prendo di brutto Io che ho la modalità allenatore non ho molte alternative E qui che ti sbagli? E full tuola ancora, vi hai già fatto la sfida? Sì ma io ho una novità No non ci credo E invece sì Ma avete rimesso la master? Eh no quella no Ah ti pareva, quindi cosa? Modalità my league oppure campionato Eh? Che cos'è? Perché spiegartela quando puoi provarla? Ah certo Oh no beh l'avevo scelto me Quello è vero ma Sì ma vuoi mettere quella novità? E anche quello è Novità è novità, sarà una scoprezzata delle tue Aspetta però È una novità che tu manco ti sogni Adesso sono curioso E allora gioca con me dai E va bene facciamo così Una partita a testa E poi? Semplici poi decido cosa giocare Ci sto, chi inizia? Beh direi di partire dalla novità Ok no problema Allora sei pronto? Certo ma prima ragazzi Non dimentiché di lasciare un bel like E seguirmi al canale Attivando la campanella Per non perdervi nessun video E inoltre qua sotto in descrizione Vi ricordo che potete trovare Il link per acquistare su Amazon Il mio libro Sembra un ottimo regalo di Natale Sia se volete farlo O se volete riceverlo E un altro regalo Potete farlo Acquistando una maglietta Come questa Su Pampling Trovate il link In descrizione E inoltre Se mettete il codice Vano20 Al momento dell'acquisto Vi regaleranno anche Un paio di calze Bellissime in omaggio Qui invece c'è un regalo Con Castolo in omaggio Cosa non ci credo E Castolo Quanti ricordi Belli e brutti purtroppo Tiro e gol Sì stavolta può entrare direi Grande E ora pronto per il campionato? Certo ma come funziona? Prima scegli una competizione Va bene Facciamo campionato italiano Perfetto E ora la squadra Perfetto Allora scelgo questa Il Monza Che devo scegliere sti la Juve Beh non c'era E quindi ho scelto la squadra Con i colori del Varese Sì idiota È il Piemonte BN Ah cavoli è vero Però vabbè Preferisco una squadra ufficiale Tranquillo come vuoi Le regole sono semplici Fai le partite di campionato Gioca una stagione completa E spunta il trofeo Usa il meglio di punti di campionato Ottieni un vantaggio Utilizzando i punti Guadagnanti durante la stagione Completa le sfide Ottieni punti E oggetti Completando le sfide In pratica Un campionato obiettivi Con dei punti Che posso usare Per potenziare la squadra Wow non pensavo che capissi così al volo E ho avuto un momento di lucidità Per iniziale Cominci a prendere in posto i giocatori Per rinforzare la squadra Ah certo Ma aspetta È la mia squadra dei sogni Quella che uso online Esatto Il campionato si fa con il tuo dream team Beh allora mi è inutile Prendere qualcuno Siamo già fortissimi Beh puoi sempre usare i punti Per prendere i potenziamenti Tipo? Oggetti per migliorare le condizioni Esperienze eccetera Oh bene Allora prenderò uno di questi Bene Come vedi sulla destra C'è la prima sfida Segna un gol Tra la partita 1 e la 3 Easy Beh vedremo Dipende dalla difficoltà che sceglierai Ovviamente più sarà alta L'abilità dell'avversario Maggiore sarà il premio Proviamo la regina Dammi fido della mia squadra Via Bene eccoci Ed ecco che arriva il nostro asso Ossia Erling Siamo nelle tue mani Anzi nei tuoi piedi Anche tu Bellingham Dai eh Dai non so se lo capisci Ma vabbè Ed eccoci qui al loop power stadium Bene forza ragazzi Ecco sono arrivati gli avversari Non sembrano forti Vedremo Guarda Erling si sta aggregando tutti Ma un po' fa ora Sembra Ibra Però sembra che lo ascoltino Ottimo Oh guarda È arrivato anche Gatti Oh grande gattone Segna per noi Ah si entra finalmente Oh era ora Certo che le due informazioni Al confronto fanno un po' strano Tieni anche se c'è ancora L'incognita della difficoltà Ok Caccio d'inizio Bene ora capiremo Quanto valiamo Che poi sarà comunque Meno di quello che spendono Il campionato arabo Allora va per il Mbappé Che ci prova Uh parata Troppo facile Moschi sull'è In mezzo qualcuno E parata Meno male Ter Stegen ti voglio bene Va bene Mbappé Il tiro di Bellingham Uh parata Ma che roba Non ci credo Mbappé per Holland Ah nada Ma è incredibile Non entra neanche da un metro Dovresti essere un po' più fuori E non è che ti vedea Attenzione Pallo indietro per vai Schettino da fuori E sei Oh da paura grande Mi raccomando Uno non basta Tranquillo Se hai capito come funziona Attenzione Allan Affoggi a barba verde Che tira E rete Uh sono due belli Non mi sento ancora sicuro Non ti preoccupare Perché è ancora il tuo Di un certo giocatore Che conosco Allan Porta avanti il pallone in mare Che tira E la metta Finti palo Mamma mia che giocatore Ah troppo forte Ora si che sono più tranquillo Beh non si sa mai però Giusto Giusto Quanto bene c'è un altro ragazzo Che si vuole scatenare Neymar vai via da solo Attenzione Nemi in aria E la metta in rete Decisamente Sto a profondi Che tira Prova e quante la bandiera Non piace nulla Bene partita finita Che ne pensi Ah non sai quanto mi mancava Fare un campionato su PES E football Ma ora passiamo all'altro Eccomi qui Perfetto Ma aspetta Non c'è un campionato su FIFA IFC 24 Che è quello Perché mi hai preso Guarda che c'è Solo che non lo usa nessuno Oh certo Di solito vado anch'io diretto In modalità allenatore Però non in foot Quindi non so come farai Per la squadra Tranquillo Ho pensato di avere Una squadra Che ha fatto Nella vita reale Quello che di solito Qualcuno fa Nella Playstation E gioca a perlo più Con scarponi Il PSG? No quello è fuori moda Sto parlando Della Nasr Oh cavoli Forse hai ragione Beh allora Ecco qui il campionato arabo C'è qualcosa da spiegare? Non molto in realtà Funziona come un campionato normale Semplicemente non ci sono Tutte le vere cose Che vedi in modalità allenatore Infatti ecco Siamo già pronti Ti dirò forse in parte meglio Più tranquillo Questo è lo stadio In cui giocheremo Allora ancora Bambarando Mi sa che sono in anticipo Wow in città Sembrano tutti carichi Trano Solo la prima di campionato Bene ci siamo Pronto si parte Uh cavoli che salto Non lo aspettavo Le difficoltà hai messo Alla fine Mi pare una roba Tipo difficoltà estrosa Estrema Oh si esatto Oh cavoli E' quella massima Eh ma abbiamo anche La squadra più forte Attenzione Deve in area Tiro di risca Niente Ma iniziamo alla grandissima Attenzione E' partito Cristiano Cristiano Pistano in tiro E uh parata Non è possibile dai Ma ne farò buona Entra in area Pistano in tiro SRT Oh grande gol Funzionava sempre Purtro alla latino E' risca Faccio il vero Tavio Che entra in area E' del gol Siamo a due Ok attenzione Ci faranno loro Tiro Grande E' parto del nostro bottiere Però mai siamo salvi Oh no Fammi entra in area Pistano in tiro E segna Cosa abbiamo preso buono Non ci credo Te l'ho detto Non devi sottovalutare Hai ragione Però non so Secondo me rimaniamo forti Forza dobbiamo aumentare la distanza Mi vorrei pensarci tu Cristiano entra in area Sì Viva il re O meglio vorrei dire Eh sì Ma ci siamo Cristiano per scontarvi Arrivino a tiro E gol Ah sapevo che fossimo Troppo forti Cristiano loro non mollano Palli in mezzo Tiro e colpo Di testo incredibile Gol Che gol assurdo è A parte che penso Che il nostro portiere Si fosse addormentato Brozo vici Mezzo per mani Che colpisce Parata Forza di nuovo Non mollare dai Sì Stava addentrata Vale 5-2 Da stanci Attenzione È finito Cristiano Cristiano Ma da Che cos'è raga Bellissimo direi Questa stanza è anche azzeccata Forse è che è un po' cattiva Sì in effetti Mi manca una però eh Da risca facciamo il gioco Tiro e gol E allora direi che ci siamo Direi proprio di Sì Ha ha E direi di finirla qui Sì direi di sì Giusto andiamo di prendere il pallone E a posto Ci siamo Bene ottimo abbiamo finito Allora deciso E non provai a dire tutte e due Come il tuo solito eh No tranquillo Stavolta ho una scelta chiara Perfetto quindi Ho giocato molto Ai FC 24 Ed è difficile staccarsi Ah ho capito Ma credo per un periodo di poterlo fare E giocare a EFootball MyLeague O campionato Cosa io Tranquillo tornerò E poi c'è sempre la modalità di CR7 dei poveri da finire Giusto Per stavolta ti scuso dai Bene E poi ragazzi cosa preferite Fatemelo sapere nei commenti Scrivendo Hashtag Campionato di football Oppure Hashtag Campionato E EFIC24 E ovviamente vi saluterò nel prossimo video Bella E ovviamente prima di chiudere Dopo che voi avrete lasciato un bel like E vi sarete iscritti al canale Attivando la campanella E vi do qualche secondo per farlo A posto Andiamo all'angolo dei saluti Allora saluto Gabriel Borges 4656 Quando uscirà E quando uscirà Porterai Marvel's Wolverine Ciao Certo che lo porterò Non so ancora come sarà Vedremo Speriamo bene Poi saluto Ignazio Butto Ciao a Samuel M1 TV Ciao Non li puoi salutare Eccomi qua Ciao Quando farai il secondo episodio di FC24 Conto di football 2024 Eccolo qua Ci siamo grandi Poi saluto Davide Viola 3567 E per ultimo Ma non ultimo Saluto Spider Rio 1088 Bene Io spero che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo come al solito Tutti giorni in un nuovo shorts E mercoledì e venerdì Con altri due nuovi video lunghi Bella ragazzi Ciao Ah speriamo che torni la master Mi manca tanto Non tu non ti 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 non Grazie a tutti.